Hanno protestato, hanno raccolto firme e pareri, hanno progettato, incontrato ministri, vertici e gente che conta, ma non c'è stato nulla da fare. La velocizzazione della ferrovia Roma-Pescara va avanti e rischia di arrivare a destinazione. Contro quello che viene impropriamente chiamato raddoppio, all'inizio si erano schierati tutti i territori interessati. I sindaci ritenevano che l'impatto sarebbe stato troppo gravoso. I cittadini non erano per nulla felici di avere un treno veloce sotto una casa che non c'è più, visti gli espropri programmati per realizzare il nuovo tracciato ferroviario. Il CONFER, il comitato che contrasta l'opera così come è stata concepita, non la velocizzazione in sé, presentò anche uno studio costi-benefici, ma non servì. Il tempo è passato e adesso qualche comune sembra allineato e pronto all'accordo con Rete Ferroviaria Italiana. Ma sono ancora in tanti a non condividere e si armano di nuovi mezzi di contrasto, come il ricorso al TAR che verrà presentato dal CONFER. Fra qualche giorno o in questi giorni potranno essere fatti i primi appalti. Noi a questo punto non avevamo altra strada che intraprendere quella della magistratura. Cioè abbiamo deciso di sostenerci autofinanziandoci su un ricorso al TAR, TAR Lazio, perché c'è il PNRR di mezzo, quindi bisogna andare lì. E i cittadini hanno risposto in maniera meravigliosa. Abbiamo ad oggi oltre 70 deleghe per gli avvocati che seguiranno questo ricorso. Ne stiamo raccogliendo ancora. Lunedì ci sarà la presentazione del ricorso perché è l'ultimo giorno utile, passati 60 giorni da quando è stata data l'approvazione da parte del Via Nazionale. Ci auguriamo che la città di Chieti, il sindaco di Chieti, regga alle lusinghe della regione Abruzza e di RFI e che sostenga anche lei come amministrazione il no come ha fatto finora. Sì, Chieti è l'ultimo baluardo decisamente. L'appello lo facciamo anche a tutti i cittadini della Val Pescara, non soltanto di monoppello. È una battaglia di civiltà, una battaglia che bisogna fare fino in fondo. Mangano tre giorni e bisogna essere assolutamente convinti e forti in questa decisione. Non è vero che ci saranno i ristori abbondanti o gli affari da fare che sono qui alla porta che arrivano. attenzione, c'è anche un'altra fascia di persone, non soltanto i proprietari. È quella fascia di persone che praticamente è a confine di quest'opera, quindi tutti i confinanti dei lavori che si andranno ad attivare. E non solo, pensiamo a tutte le famiglie che sono oggi a casa in affitto. Queste persone rimangono senza nessuna protezione, quindi invitiamo anche loro. Abbiamo capito che invece il sì è soltanto un sì politico a Marsilio e a RFI, forse in procinto anche delle prossime elezioni regionali, quindi non è un sì tecnico progettuale fatto con tutti i crisi del caso. Informazioni in merito al ricorso e alla sottoscrizione finalizzata al pagamento delle spese legali possono essere reperite sui social oppure firmando direttamente al banchetto allestito in via 20 settembre a Manoppello. Abbiamo il supporto di due ottimi avvocati, quindi c'è da sperare bene.